What's up signori, Johnny Creek qui per la nuova parte di Silent Hill, faccio questa piccola e bravissima introduzione prima di lasciarvi al live, perché purtroppo durante il rendering penso sia esplosa una ventola del cretoso, c'è stato un rumore stradissimo e si è perso tutto il pezzo di quando metto le candele nel lampadario, dentro la palica e cazzo è, insomma, quando poi si vedono i simboli per suonare le campane. Quindi tutto lì fratelli, solo quello, grazie mille per tutti i vostri suggerimenti, per tutti i mi piaci, per i vostri fantastici commenti, Johnny Creek, amore totale. Oh che schifo! Che schifo! Oh cazzo che schifo! La mia, Marfi, la pistola. Hit medico. Pistola, Marfi, io me ne sbatto le palle, piglia la pistola. Ok. Gli sparo tutto. Sparo tutto a quello che esce da lì dentro, eh. Fratelli, non mi interessa, io sparo a qualunque cosa, eh. Oh merda! Via! Raffoglio life, Marfi! Oh cazzo. Questo che cos'è? Oh cazzo. Signori, signori, spero che questo rovi si... Oh cazzo. Oh mamma mia, ma sta succedendo qua? Non c'è la gravità per i fogli qua dentro, signori. Mi sono già scordato, piramide, piramide, astronave, erba, piramide. Tanto non serve più a niente, credo. Mamma mia, ma che posto è questo? Mamma mia, sentite, sentite il sottofondo. No, no. No, no, no. Stai lontano, brutto. Eh, che cacchiarola! E non mi dire che sono morto proprio ora, eh. Ah, no. Ok. Oh oh. Where are we, Marfi? Giusto, giusto! Porca miseria, l'obitorio. La suora. Where am I? Ma che cazzo ne so, Marfi? Why are you doing this to me? Chi c'è lì sotto? Eh? Ma che c'è lì sotto, scusa, una montagna? Oh. Ma che cazzo, che cazzo c'è lì sotto? Ma che figlio c'ho? È il Kogan! No, non mi dire che, non mi dire che è il Nemesis, eh. Non mi dire che è il Nemesis. Spengo. Spengo, eh. No, non fa che è il Nemesis. Oh merda, è il Nemesis. Lo sapevo. Oh cazzo, lo sapevo. Oh cazzo. Oh cazzo. Ma che letta via, sei una suora con un Nemesis davanti? Ma sai di chi cazzo parla? Merda. Merda. Fai alzare quella scarica, gli scarico tutti i trenta colpi che ho. Why are you doing this to me? There were those who dwelt in darkness and in the shadow of death. Prisoners in misery and chains. Oh. Eeeh. Ciapa costelagne, costatiritera. Fammi ammazzare quello. No. Non può parlare di Bibbia, una tizia che ha davanti un Nemesis. Non dare le spalle, Murphy. Non dare le spalle, Murphy. Charlie was still gone. And I was stuck in prison. Everything spiraled out of control. It was my fault. I just want... I just want my life back. Ho posato il joystick e il bordello. La vendetta è una strada lunga e etta di pericoli. Where do you suppose it ends? Eh, boh. Nell'inferno. Ma cazzo, non mi dire che è lui l'uomo nero. Freedom. It's yours. If you want it. You only need to claim him as your own. Ma che... Ma che cazzo è? Non sto capendo. Oh, cazzarola gigantesca assassina. Maledetta suora. Ti ucciderò dopo il mostro. Come cazzo dovrei abbazzarlo questo? Io gli sparo tutto, fratelli. Vi giuro, gli sparo tutto. Non mi interessa. Oh, merda. Uomo nero, incontra la mia cosa. Io ti... Ah, sei andato. Ma no, dove cazzo sono? Fammi entrare! Fammi entrare! Ma no, dove cazzo sono io? Ma che... Aiuto. Aiuto, arrivo, Charlie! Arrivo! Prendi! Il rastrello! No, una pala! Dove? Dove sei, Charlie? Arrivo! 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 Arrivo, arrivo! 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 Merda, vai! Oh, oh! Non è Charlie! Non è Charlie! Merda, la cetta dei pompieri! Oh! Oh, merda! Oh, cazzo! Come l'ho uccido? Signori, datemi... Signori, datemi una mano! Signori! Sei lento, eh, stronzo! Ora! Tira qua il martello, brutto stronzo! Tiralo! Dammi la martellata! Guarda che ci vengo io! Vieni! Vieni, vieni! Alla battaglia! Oh, cazzo! Ma quanto... Quanto toglie con un colpo, sto tizio? Il pieno... Il pieno corpo? Oh, merda! Oh! Ora, Murphy! Ora! Alla battaglia! Alla battaglia, Murphy! Alla battaglia! Alla battaglia, Murphy! Oh, cazzo! Oh, cazzo! Oh, cazzo! Murphy, sparagli! Murphy! No! Poppi adesso! Vai! No! Due colpi sprecati! No, due! Vai, Murphy! Vai! Colpisci, oh! Raccogli i colpi! Usa cosa? Usa... Oh, merda! Grande, Murphy! Spaccagli la faccia! Così, pari! Omo nero di merda! Yeah, baby! Oh! Oh! Panzone, Murphy! Panzone, Murphy! Panzone, Murphy! Ci puoi contare! Non importa! Non ti portava a tornare! Niente può portare a tornare! Non è il tuo culo! Ma va? Ah, finalmente un bambino con lo sguardo umano! Non da satana! Ecco chi l'ha ucciso! Il Panzone, mi sa, allora! Le chiavi! Yeah, baby! This way! I like this way! Che cazzo mi servono quelle chiavi adesso? Freedom! Liber te, egal di te, fraterni te! Ciao, Charlie! È stato un piacere! Ma purtroppo sei schioppato! Niente, Murphy! Non ci possiamo fare niente! Ah, signori! Interessante queste cose! Quanti è che siamo insieme? Tipo, arrivati a sto video che purtroppo... Tipo, sto registrando... Adesso sono... Tipo, sto registrando da mezzanotte e sono le 2.20! Quindi, da una giornata tipo 500 puntate... 20 puntate al giorno! Quindi, sarà un bordello perché tutti i suggerimenti vostri ahimè non li potrò leggere ma purtroppo se non faccio così non ho tempo, fratelli! Solo di notte riesco a fare sta roba perché poi mi devo svegliare le schi... Oh, merda! Chiave della barca! Oh! Chiave della barca! Interessante! Che è? Ma i polizi... La poliziotta... Tutti quelli del pullman... Dove cazzo sono? Mio Dio! Mio Dio, le fogne no! Le fogne no! Tutto tranne le fogne! Per piacere! Io c'ho la pistola... Io... Io tengo la pistola, eh! Ok! Cazzo! Oh, cazzo! Di nuovo quella nebbia! Quella nebbia che... Avevo sbagliato assolutamente strada lì non ho fatto... Non ho... Non ho aperto 50.000 armadietti! Non ho usato neanche una combinazione! Ma sono... Mamma mia! Uh! Giuro che quando finisco questo gioco qui lo brucio! Un vaso! Sempre meglio di niente! Cosa c'è qua? Oh! Come a me non ha fatto interferenza con la tizia? Merda che momenti mi mette sotto! Gli ho spaccato il vaso in faccia! No! A pugni! Vai Murphy Tyson! No, 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 no! Signori, 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 signori! Non mi interessa! E basta! Murphy! All'inferno! Oddio, oddio! Te! 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 Quanti sono? Merda! Quanti colpi sto sprecando! Ma è impossibile mirarli! Ma che cazzo? La leventa si muove velocemente! Murphy, via di qui! Prendi questa! Un bel martellato in faccia! Almeno... Murphy! Murphy! Ma non la... Ma non quello! Dovevo prendere il martello! Ma muori anche tu! Almeno la finiamo! Vieni qua! Non vuoi fermare! Ma quanti ce ne è? Mamma mia! Chi è lo sto posto? Vai, Murphy! Colpisci! Colpisci, Murphy! Colpisci, Murphy! No! Sotto, Murphy! È morta, allora! Elevati! Brutta strega! Ti è! Ok, dove sono le tue sorelle? Brutta strega! Lo so che siete vive! Ancora per poco... Ancora per poco tu ti... Muori! Anche tua sorella! E anche l'altra! Ti è! Ok! Ora, dove cazzo dobbiamo andare? Verso una barca, giusto? Andiamo a vedere! Dove siamo noi? Dove ciappa ciappa siamo noi? Dove cazzo siamo noi? Oddio! Abbiamo la mappa... Oddio! Tubo! Tubo, Murphy! Perfetto! Hm! È convinto che non l'ho visto! Ma scendi! Vuoi scendere? Scendi da... Mamma mia! Scendi da quel cazzo di ponte! Colpi nel culo, te ne do... 200.000! Scendi! E scendi! Mi sembra un imbecille questo qua che sta... Che si aggrappa da dentro! Ok! Proseguiamo! Sentite acqua! Sento acqua io, brothers! Ma questo non era il furgone... Il furgone che era parcheggiato là! Un altro quadro! Oh mio Dio! Questo è un fucile! Oh yes, baby! Ma però scusa, il fucile... 5 su 5! Ma se lo cambio... Lo butta! Ma... Oh cazzo! No, non farti beccare! Non farti beccare! Cazzo mi ha beccato! Porca miseria! Vieni qui! No! No! Stavolta è lotta alla pari! Stronze! Vieni qua! No! No, 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 no! No, 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 no! Vieni! Salutami Priscilla! Toh! Brutta strozza! Te! Salutami Priscilla! E anche tu! Ti è! Andiamo, Murphy! Non ci ferma nessuno! Abbiamo due colpi! Oh! Ah, è vero che quando entra si carica! Dettagli! Murphy... No, no, vediamo se c'è qualcosa! Oh, questo che cos'è? Una bottiglia di acqua? Non si vede nulla! Nei cassetti di solito c'è sempre qualcosa! Sì, con le palle! Con le palle! Ma non c'è un cazzo in stica... Ah, questo è un bigliettino! Il molo! Ok! Ah, buh! Non lo so, signor Murphy! Cosa c'è qua? Fiori! Una porta! Signor Pendleton! Urna! Spargile ceneri in un posto speciale! Ah, nelle urne! Sì, nelle urne! Nel molo, sicuro! Ok! Niente, boom! Andiamo via di qua! No, Murphy! Che cazzo fai? Andiamo via di qui! Oh! Non strocheggiare! Scendi! Via! Come si usciva? Come cazzo si usciva da sta casa di merda? Via di qui! Appena arriviamo al molo vediamo di spargere quelle ceneri, sai così che si fa, ma... Non sono sicuro, tanto ormai ho perso tanta di quella roba, signori miei! Ho perso tanta di quella roba! Mentre ho un sonno allucinante! Sono andando avanti, tipo da mezzanotte sono le tre! Ok, Murphy può entrare gli edifici per ripararsi, ma... Ormai volevo finire solo questa session! Cioè, sinceramente... Volevo scoprire un attimo... Dove era il molo! E poi me ne vado! Appena scopro dov'è... Oh, cazzo! Altre fogne! Che è una canna da pesca questa? Cazzo, mi dovrebbe servire una canna da pesca! Non mi pare il caso di andare a pescare proprio adesso, Murphy! Se proprio insisti! Mamma mia che buio! La suspense è sempre più grande! Qui qua? Oddio, di nuova sta schifezza! Una scala! Dove ci porterà questa scala? Chi lo sa? Chi lo sa? Dove cazzo siamo? No! Porca miseria, Murphy! Ma non ti ci metterà! Che tu... Sali sta cazzo di scala! Ok, sicuramente bisognava andare là! Questo qui era un segno della provvidenza! Ma pazienza! Ma è troppo tardi! È troppo tardi! È too late! Oddio, lag! Eba vaffanculo anche te! Ma porca di quella! Scendiamo! Ah, mamma mia, signori! Veramente cose allucinanti! Allucinanti! Seguo una logica che non esiste! Andiamo di qua, allora! E di qua non c'è un cazzo! E mo? E mo? E mo siamo nella merda! Ve lo dico io e mondo siamo! Nella merda più totale! Siamo in una grandissima merda! In un'enorme merda! In una maestosa merda! Porca miseria! Porca miseria! Questo che è? No! Mi pare che qua... Mi pare che in queste cose qua non si possa fare nulla! No, aspetta! No, vabbè! Però adesso c'ho... Fin quando la doppietta c'ha due colpi, fratelli! Mi conviene tenere la doppietta! Boh, allora torniamo su! Lì devo tornare quando trovo una chi! Quando trovo una chi! Detto anche chiave! Pille chiave al giorno tolgono il medico! Allora... Con calma, Murphy! Tanto... Con calma, eh! Tanto lui domani non si sveglia! Cioè, domani! Veramente fra dieci minuti ormai! Lui non si sveglia! Io sì! Allora... Mamma mia che most... Oh! Il Monster Lab mi ha fatto scoprire un medichino! E lo andiamo giù di qua! Va, brothers! Che cos'è questo? Oh, 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 oh! Niente! Salvataggi su salvataggi! Niente interferenze! Ah, qui c'è una porta! Niente interferenze! Non ci sono... Interferenze però c'è un lag allucinante! Magari che sia interferenze anche quelle! Non lo so! Non lo so! Non saprei dirvelo! Non saprei dirvelo! Mamma mia che buio! Che schifo! E che cazzo dovrei fare in sta casa? Ah! Ah, ok! Non ci sono bigliettini... Oh, cos'è qua? Ok! Vabbè? Quindi? Oh, cazzo! È vero! La mano del morto è! È la mano del morto! Oh, cazzo! Ma che schifo! Ma che schifo! Dove cazzo lo trovo io un cuore? Ma... Dove cazzo dove hai trovato un cuore io? Oh, merda! Gli scantinati no! Tutto a tranne gli scantinati! Per piacere! Basta con questi scantinati, bui! Mamma mia! Appena esco dalla casa, signori, fermiamo la puntata, va? Sennò domani veramente mi sveglio sì cagato addosso, ma non mi sveglio proprio, mi sapevo! Trova il cuore mancante! Mamma mia! Che posto di merda! Posto iper-mega-lugubre, signori! Tutto a caso! Raccogli! Cosa? Ah, no, no, no! Per adesso preferirei di no! Ma non c'è nulla! Ma può essere che in uno scantinato non c'è una cipalippa? No! Non può essere! Non può essere! Assolutamente no! Questa non si sposta! Boh, boh 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 boh! Non ne ho la più strapallidissima idea, fratelli miei! Non ne ho la più Strapallidissima idea Che è qua Niente Ma non era qui il morto Ah no il morto era sopra giusto Oh mamma mia Ancora più giù signori miei Ancora più giù 26 minuti ancora più giù 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 le mille Dove c'è acqua è un brutto segno Dove c'è acqua è un brutto segno Questo ormai l'ho capito Che cos'è Perché si sente un cuore Ah il cuore Silenzio che devo sentire il cuore Non capisco se aumenta o diminuisce Diminuisce di brutto Qua aumenta Aumenta Diminuisce Chi è? Chi è? Le sento le sento fratelli miei Le sento L'ho visto Ti è? Stronza Non sento più il cuore Non sento più il cuore Lo sento Lo sento Scusate se sto zitto fratelli Sto cercando di sentire il cuore Porca miseria Oh cazzo Muori E va a farlo Ah qua è sempre più forte Sempre più forte signori Mi sa che ci siamo Ci siamo Lo sentite anche voi Sentite Oh Che cazzo Oh cazzo E' fortissimo qui Eccolo Eccolo Oh mamma mia Oh mamma mia Che cazzo è? Una motosega quella Oh cazzo Via Murphy Via Murphy Via Oh merda secca Via Oh Via 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 Levati No 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 Via 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 Via, Marfi, via Oh, cazzo, via, via, via Levati No, l'ho mancato in pieno Via, Marfi, via Tra l'agghi e tu Oh, cazzo Oh, merda Via, 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 via Dov'è la scala? 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 Dov'è la scala, signori? Dov'è la scala? Dov'è la scala? Oh, merda, dove siamo? No, vicolo cieco Venite Merda, vicolo cieco Merda, santa Vicolo cieco Oh, cazzarola Vicolo cieco Oh, cacchio No, il computerista è il bai No, il computerista è il bai No, l'unica fonte di luce Aspettate Oh Uccidila 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 Non vedo nulla Uccidila Uccidila Oh, merda Uccidile, marvi Uccidile Stronze Uccidila Dove stai? Fatevi sotto Fatevi sotto Brutti strozi Oh Dov'è? Fatti sotto Murphy, usciamo di qui Usciamo di qui, Murphy Però come si esce da qui? Oh, cazzo Come si esce da qui? Oh, mamma mia Pure Spider-Man Via, via, Murphy Di qua Di qua Di qua Via, Murphy Murphy, corri Non la gara adesso Porca miseria Via Non c'è nulla neanche qua Ma Che cazzo è l'uscita? Non era qui la scala Eccola 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 Oh Oh, sì Oh, sì Signori Oh, sì Andiamo a mettere il cuore Usciamo da sta casa Usciamo da sto posto di merda Oh, sì Andiamo a mettere il cuore Ciappa, ciappa Tutte quelle urla Ok Dobbiamo soltanto riuscire a trovare la strada per la scala Entro domani E poi Possiamo andarci Non la troverò mai Allora Cerchiamo di trovare questa cazzo di scala Che sale Dove sta? Non si vede nulla Eccola qua Via, Murphy Con tutto il cuore Via da questo posto di merda Mettiamo il cuore Vediamo che ciappa ciappa succede E ce ne andiamo via Cuore umano Mamma mia, signori Che schifo E mo? Il medikit Tutto questo per un fottutissimo medikit? Mi prendi per il culo? Ma mi stai prendendo per il culo? Santa pazienza Via da sta casa, Murphy Signori, casomai ci torniamo Io vado a letto Questo video ci metterò 500 anni a caricarlo Sicuramente Amore totale, signori Johnny Creek Veramente, grazie mille di tutto Aspettiamo solo che ci sia un salvataggio Ma mi sembra che ci sia già stato Se non mi sbaglio Ci è già stato Non è il salvataggio Beh, facciamone comparire un attimo Un altro per sicurezza, va? Ok Non vorrei sinceramente Tornare indietro Ok Signori Johnny Creek Stima totale Grazie mille Ciao belli Epic Family Buonanotte Anzi Ciao grandissimi